Hola ragazzi, ciao a tutti dal terminale delle missioni di Warhammer Darktide 40.000 Siamo nel 40.000 d.C. e abbiamo deciso di cambiare il nome in Sigmar Sigmar, grande avventuriero, terribile contro le nostruosità che abberrono L'Umonica è stato il nostro Salvatore e ci ha portato qui il 40.000 L'Imperium dell'Uomo, il nostro Dio Imperatore, fa sì che l'umanità prosperi e sopravviva anche contro le minacce più assurde e inaspettate come quelle che vedremo qui su questo pianeta in questa missione di infiltrazione Warhammer Darktide è un gioco in cooperativa dove voi e questi soggetti qui che stanno sparando altri tre amici che affronterete contro terribili creature come queste qui che stanno assillando già la nostra partita dicevo io sto sprovando una nuova arma che già non mi piace per niente un'arma che ritengo effettivamente che sta a fare che è un'arma che che sta a fare per l'anno sono qui che si che 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 non Un'arma che sto trovando è decisamente inutile, almeno se paragoniamo le armi che ha riportato Il fucile lancia granate al plasma Cazzo sono usciti questi, ma sinceramente spero che finissi questa partita raga perchè ho quest'arma proprio Non è la mia, ma che cazzo fa quella dove si è messa, ma dai Posa torribile con due bestioni come questi, perchè quando spari effettivamente Non sempre si blocca una visuale, spesso In questo caso Cazzo è questo, ma la gallina non c'è fuoco, però non c'è, non c'è un nervoso è che non c'è E' un'arma che non c'è, non c'è un'arma che non c'è, non c'è un'arma che non c'è Non c'è un'arma che non c'è, non c'è un'arma che non c'è, non c'è un'arma che non c'è Poi con questi davanti, le palle giustano Non riesce facile da entrare, non c'è un'arma che non c'è Non c'è un'arma che non c'è, non c'è un'arma che non c'è Non volevo dimostrare Ci sono un sacco di vengi Un sacco di vengi Grazie 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 Ammokriti! E' a 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 Go there A 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 di nuovo ragazzi andiamo senza municioni senza municioni senza municioni Grazie a tutti! 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 Vabbè, sono morto 3 volte! Però... In un gioco di Gamer sarebbe stato difficile. Infatti avevo un livello di livello più basso. Un livello più basso e con l'arma non proprio adatta. Devo dire che però... 3 morti... eh lo so grazie grazie va bene ragazzi dai poteva andare meglio me l'hanno detto anche loro va bene capita capita ci rifacciamo ci rifacciamo alla prossima